Fino all'11 dicembre è allestita a Palazzo Lascaris la mostra Fuori Porta, Viaggi e Vacanze dei Piemontesi tra 800 e 900. 50 immagini originali provenienti dalle collezioni dell'Associazione per la Fotografia Storica e dall'archivio della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche di Torino. Le immagini scattate tra il 1860 e il 1978 testimoniano come le vacanze diventino un fenomeno di massa, con le gite sociali e aziendali, dal secondo decennio del Novecento. Grazie a tutti.